Una storia, uno spettacolo basato su una storia vera per ricordare la Shoah in un modo particolare. Sì, questo spettacolo è nato con questa domanda, che cosa possiamo offrire di nuovo che non sia già stato detto sulla Shoah? Abbiamo deciso di focalizzarci sull'aspetto femminile, quindi come le donne hanno vissuto durante la Shoah. È una storia costruita per flashback dove appunto le donne sono protagoniste. Sì, il mio personaggio che è quello di Elena è una ragazza giovane che è stata trasportata in questi campi e cerca di sopravvivere come tutte le sue compagne e in qualche modo riesce a legarsi e a creare un rapporto con il proprio carceriere. La persona Shoah Rosa, che è la sorella di Elena, è un personaggio che anch'essa donna e in qualche modo porta anche non solo la figura femminile giovane, ma anche la figura femminile come madre. Credo che sia fondamentale veicolare alle nuove generazioni dei messaggi positivi, importanti, in questo caso che riguardano la giornata della memoria, questo spettacolo è una veramente una sinfonia, veramente per i sensi, in quanto non soltanto intellettualmente si può seguire, ma anche appunto dal punto di vista uditivo, visivo, quindi questo sarà un'esperienza tutto tondo per i ragazzi. Un messaggio d'amore che deve arrivare ai nostri ragazzi, ai nostri studenti, che devono recepire un messaggio non banale e scontato, visto le guerre purtroppo che tutt'oggi ci sono. Il nostro compito è non lasciare mai per scontato il giorno della memoria, perché deve rimanere un qualcosa, un messaggio fisso e ben chiaro sui nostri giovani. Chissà di chi sarà questo vestito.